Sì, possiamo parlare con Peter, cacchio e controcacchio, anche porcacchio e controcacchio, l'ho già detto, stracacchio non avevo detto. Caro Giulio, grazie a te Giulio, a Daniele, a Lorenzo, soprattutto grazie a Too Much Podcast, che bello. Ma anche da un punto di vista, come dire, di cuore, sono vicino a voi e vi ringrazio tanto perché siete stati dei buoni, anzi ottimi amici. Oh cielo, non me ne ero accorto, ma abbiamo fatto un'intervista. Oh padroncina Padma, perché non mi informa mai di queste novità? Oh cielo. Tupido cane! Musè, ti prego, non darmi bastonate. Oh cio! Homer, ma insomma, vuoi fare, comportarti come si deve, sei il mio figlio in fondo. E per cui il professor Feisworth parlava tutto in questo modo, con questa testa a pera, con questi occhiali tondi. Lei, per caso, è un babbà, no?